Nel 2017 con Symbios Renault ha presentato la sua visione del futuro della mobilità personale al Salone di Ginevra 2018. Con EasyGo presenta la sua visione del futuro della mobilità condivisa. Renault EasyGo è un robot vehicle, ossia un veicolo condiviso, autonomo e senza conducente con motorizzazione elettrica pensato per il trasporto di persone in città fino a sei passeggeri. Un veicolo è un servizio al tempo stesso, un tassello dell'ecosistema delle Smart City. Si prenota da un'app su smartphone o direttamente da una stazione. È confortevole come un'auto individuale e propone un costo davvero accessibile a tutti. Consente ai passeggeri di dedicare il tempo guadagnato in altre attività e può essere utilizzato da tutti, in famiglia, tra amici o condividendolo con altri utenti. Renault EasyGo fornisce una soluzione di mobilità on demand per tutti. Il servizio operato a società pubbliche o private è complementare al possesso di un'auto e all'utilizzo dei mezzi pubblici. Con la sua silhouette trapezoidale, l'altezza contenuta e le ampie superfici vetrate, EasyGo è una finestra aperta sulla città. Dotato di una capacità di guida autonoma di livello 4 e una velocità limitata a 50 km orari, EasyGo è in grado di gestire la distanza con il veicolo che lo precede, è in grado di rimanere incareggiata, di cambiare corsia per sorpassare e girare autonomamente ad un incrocio. Lungo 5,20 m e largo 2,20 m, EasyGo massimizza lo spazio disponibile per i passeggeri e favorisce la socializzazione grazie alla disposizione AU dei sedili tipo divanetto. Il futuro della mobilità è all'orizzonte, Renault intende essere uno dei pionieri, EasyGo, EasyLife. Ma torniamo su terra e dopo il successo del 2017 in Italia, Renault e Dacia, miglior performance sempre, Duster, miglior SUV venduta ai privati, Clio, miglior auto straniera dal 2014, per il 2018 lavoriamo sulla nostra gamma, completamente rinnovata nel 2016 e nel 2017. Novità dal fronte dei motori, i nuovi motori TCE 1.3 turbo, benzina nati dall'alleanza con Nissan e in collaborazione con Daimler, assicurano maggior potenze e minor consumi, disponibili con 115, 140 e 160 CV, questi ultimi anche con cambio automatico EDC. Nuovo motore per Talisman, il TCE da 225 CV con un cambio automatico EDC, già presente su S-PASS, di derivazione Renault Sport e ancora una volta dunque EasyLife a bordo, tanta tecnologia, motori all'avanguardia in un abito French design. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.